In questa lezione vi spiegherò come leggere dati da una tabella SQL Server o MySQL da un'applicazione .NET sviluppata con Visual Studio C++ Prima di proseguire, attenzione, perché io do per scontato che voi sappiate già come si crea un database con SQL Server, Visual Studio o MySQL Se non è così, vi rimando alla mia playlist sull'SQL, poi magari vedo di inserire qua più o meno in questo punto un link alla playlist stessa In quella playlist troverete infatti diverse lezioni che prendono in esame sia il database di Microsoft SQL Server che quello open source MySQL Con diversi frontend, cioè con gli strumenti tipici, gratuiti, con cui è possibile amministrare il database e creare appunto le tabelle Nello specifico vedremo come caricare l'elenco dei nomi, ma anche dei codici che sono poi quelli che servono, dei fumetti Da una tabella di un database che anche se non deve essere necessariamente lo stesso per voi Se volete seguire più facilmente la lezione, forse vi conviene proprio ricrearlo così come ora vi spiego Che poi lo create col SQL Server o con MySQL, non importa Poi vi spiegherò come agganciare entrambi i tipi di database all'interno di un progetto visualc++.net Per il momento createlo come vi pare e piace L'importante è che ci sia una tabella, io l'ho chiamata fumetti Mettendoci dentro questi campi La chiave primaria, ID fumetto, di tipo intero Ricordatevi di settare l'auto incremento Il nome del fumetto, un Varchar Il costo, un float Il... beh, d'accordo, questa tabella è già pronta per gestire anche il collegamento con l'elenco dei generi KS genere Se volete aggiungetelo, non si sa mai che un domani si vada a potenziare questo esempio E avete la struttura già belle che pronta L'anno di pubblicazione Un altro intero, d'accordo Fatto questo, andate a caricare un po' di dati Ovviamente a casaccio E qui, dai nomi dei fumetti Capite che non sono più un ragazzino Visto che diversi di questi forse non vi dicono neppure nulla Ma dicono molto a me Create un nuovo progetto Visualc++.net Come ormai dovreste saper fare quasi ad occhi chiusi E portate in evidenza il pannello esplora database Dovreste già avere la linguetta pronta all'uso qui, vicino alla casella degli strumenti Se non c'è, andate a cercarla in visualizza Altre finestre Esplora database Eccolo qua Notate che ora come ora Il database fisico, cioè i file fisici, possono trovarsi in una cartella qualsiasi È indifferente Poi se per convenienza vi siete copiati i file del DB Nella cartella stessa del progetto che stiamo approntandoci a completare Va benissimo Ma non è un must, non è un obbligo Prima vi spiego come si fa Per un database SQL Server Per quello che riguarda il MySQL cambierà ben poco Dovrò solo spiegarvi come scaricare prima I cosiddetti connector.net Che permetteranno di avere le stesse classi in chiave MySQL Ma i nomi degli oggetti che dovremo istanziare e utilizzare Saranno proprio gli stessi E metodi anche Per cui, imparato per un ambiente, lo saprete fare automaticamente anche per l'altro E questo non è un vantaggio da poco Breve premessa Che vale sia per SQL Server che MySQL Ci sono fondamentalmente due modalità per accedere ai dati La prima è quella un po' tradizionale Che tutto sommato non sconvolge la vita chi era abituato ad accedere ai database Un po' alla PHP per intenderci Quindi a mano, creando una connessione Poi preparando un comando SQL Inviare il comando Leggere i risultati E tutto sommato è la modalità più adatta per iniziare ad approcciare la gestione dei database Questa modalità è detta connessa Perché stabilisce una connessione e non la molla finché non si è finito di lavorare Questo va benissimo tutto sommato se il database è ad uso personale per un cliente o per voi stessi Che risiede sul vostro PC e tipicamente siete solo voi che andate a utilizzarlo I vantaggi di questa tecnica sono tutto sommato la semplicità di quello che si deve programmare Non sto dicendo efficienza ma semplicità nel senso che dovremmo aggiungere poco a quello che già sappiamo Per riuscire a utilizzare i database E' un piccolo salto insomma Quando però il database non è locale Magari si trova su un altro PC dell'ufficio E ci sono molti utenti che devono accedere anche in contemporanea agli stessi dati Microsoft ha implementato un meccanismo che rende la cosa molto più efficiente effettivamente E questo corrisponde alla cosiddetta modalità disconnessa Nel senso che quando si lavora non si mantiene permanentemente aperta una connessione Perché essendo tanti gli utenti sarebbe sconveniente perché sovraccaricherebbe il server Con richieste e utilizzi di risorse di vario tipo RAM, CPU, banda di rete eccetera L'idea è che quando si accede stabilendo una connessione al database Si crea una specie di cache locale Tipicamente anche in RAM per essere molto veloci Chiamata dataset Una specie di database virtuale Che l'applicazione vede come se fosse il database vero Non si accorge ma sta lavorando effettivamente con qualcosa che non è il database reale Tutto quindi avviene inserimento di record, letture Tutto molto velocemente usando questa cache locale E ogni tanto quanto ce n'è necessità O sotto un comando esplicito da parte del programma Si sincronizza il contenuto della cache con il database reale Questo è efficiente ma porta anche a problemini Se ci pensate anche di aggiornamento Perché se ci sono due o più utenti che stanno aggiornando la loro copia locale di un record Poi qual è la copia che è valida? Quindi non sono tutte rose e fiori Di certo Microsoft non si è fermata qui Ma ha messo anche a disposizione un meccanismo Una serie di classi Di componenti sensibili ai dati Dataware si dice Cioè consapevoli dei dati Che sono molto efficienti e veloci Con cui si possono costruire veramente con pochi clic Delle maschere automatiche di accesso ai dati Automatiche vuol dire che ci ritroviamo a gratis I bottoni per cancellare, inserire A volte anche cercare i record Però un po' come tutte quelle cose che sono automatiche Con i wizard Ci ritroviamo anche con un fracco di codice Che se tentassimo di aprire E di andare a leggere, a modificare È un vero incubo O veramente diventate molto molto bravi Non accontentandovi di sapere come si trascina il mouse Se si fanno 4 clic E andando a vedere dietro le quinte E ci vuole molto tempo E molta capacità E molto sudore Oppure ve lo garantisco All'inizio vi sembrerà di sviluppare molto velocemente l'applicazione Naform, le combo Le relazioni uno molti Tutto molto bello Ma appena il gioco si fa un pochino serio Scoprirete che non siete in grado di mettere le mani in quel codice E allora dico io Meglio iniziare con l'altra modalità Quella che ho chiamato la connessa Meno ambiziosa Meno produttiva Però inizia a immettervi nel meccanismo Dell'utilizzo del database Poi si vedrà C'è anche il capitolone Nuovo Ma solo di Microsoft E quindi ho sempre un po' di titubanza Nell'affrontare E spendere energie In un qualcosa che Microsoft potrebbe cambiare da un anno con l'altro E spesso l'ha fatto Quest'altro capitolone è quello che va sotto il nome della tecnologia LeanQ Ok, non so se lo affronterò Non so se lo farò col Visio C++ o col C Sharp Per il momento soprassiedo Preferisco quindi iniziare con la modalità come dicevo connessa Che è la stessa che poi potete giocare un po' in tutti gli ambienti di sviluppo Che siano di Microsoft o no Quando ci si deve collegare a un database gestito da un server Spesso lo si fa comunicando in partenza la cosiddetta stringa di connessione Che poi altro non è che una sequenza di parametri separati O con i punti virgola, con la virgola, col trattino A seconda degli ambienti che si utilizzano Tipicamente nella stringa di connessione Si va ad indicare il server A cui ci si vuole collegare Il nome del database Eventuali parametri come Lo username e la password E cose di questo tipo Ce n'è una meride di possibilità Ma noi useremo un trucchetto E cioè faremo creare a lui in automatico Una connessione in modo visuale Che è quella che poi mi avete visto usare prima qua Nel pannello Explorer Database E da lì andremo a succhiare la stringa di connessione pronta all'uso Semplicissimo Quindi Come si fa? Clic destro Qui Aggiungi connessione Qua vi conviene poi lasciare attiva l'autenticazione di Windows Che semplifica le cose Cioè come dire Quando noi tenteremo di accedere al database Se lasciamo questo radio button Quest'opzione attiva Se siamo già riconosciuti da Windows Come utenti accreditati al suo utilizzo La stessa cosa va già bene anche per SQL Server Se non è sufficiente Possiamo aggiungere un secondo livello di sicurezza Creando degli utenti con privilegi differenziati In SQL Server o MySQL E magari prima o poi lo vedremo come si fa E a quel punto dovreste fornire anche Lo vedete qua sotto Sfumato il nome utente e la password Ma per il momento ce n'è che avanza Qua dovete leggere File di database Microsoft SQL Server SQL Client Ok? Altrimenti non ci siamo Qui basta sfogliare E andate ovviamente a indicare Il file MDF Corrispondente al database Dei fumetti Potete anche avere una conferma Facendo clic sul bottone test connessione Che tutto sia posto Sto ovviamente confidando sul fatto Che sia già attivo sul vostro PC Dovrebbe essere in automatico la partenza Il server SQL Server Test connessione Ok, riuscito Ok, confermiamo E qui ci siamo riportati alla situazione Con cui mi avete visto lavorare all'inizio Occhio, questo non è il database fisico È soltanto una sua rappresentazione visuale Logica Per cui se io dovessi cancellare Come mi avete visto fare prima Questo oggetto Sto solo cancellando la connessione Che è un file che descrive La struttura del database Che però è al sicuro da un'altra parte E ora vi dico dov'è la stringa Basta Cliccare qua sul database E qui nelle proprietà Se non ci sono Sapete come farla apparire naturalmente Eccolo qui Eccola qui Stringa di connessione Per cui quando ci servirà Basta fare un bel doppio clic qui Un copia E un incolla nel codice Lo faremo tra poco Aggiungete poi una bella Combo box Diamo le come nome Elenco fumetti CB Combo box Direi che potremmo far caricare in automatico L'elenco dei fumetti Proprio all'apertura Alla partenza Della form Quindi andrei a programmare Addirittura il costruttore Della form L'importante È mettersi Comunque Dopo la chiamata A quell'initialize component Ve l'ho ricordato più volte Perché altrimenti Gli elementi Come la combo box stessa Ancora non esisterebbero Prima però Aggiungete uno spazio dei nomi Che contiene propri componenti Necessari All'aggancio di SQL Server È una prosecuzione Di quello che già vedete in alto Il system data Aggiungete Il SQL client Questo Ok Ora siamo veramente pronti Lo schema è abbastanza semplice Prima La connessione Che possiamo stabilire Utilizzando un oggetto di classe SQL Connection Mi faccio aiutare dall'intellisense SQL Connection Con Ovviamente È un Punto attore A Uguale GCnew SQL Connection Appunto Ecco adesso noi potremmo O Non fornire addirittura Se non ricordo male Il secondo Di questi overload Infatti è quello vuoto Al che dovremmo poi Separatamente andare a impostare La proprietà della stringa di connessione Oppure Come mostra L'aiuto dell'intellisense Specificare già Fin da ora La stringa di connessione Che direi che si può seguire Questa strada Ora per il momento Chiudo Perché devo andarmi a copiare Come vi ho fatto vedere prima La stringa Dalla connessione Vado qui un attimo Allora in esplora database È già selezionato il nostro DB Fumetti MDF Vado di qui Nelle proprietà Doppio clic Per selezionare CTRL C Per copiare E poi mi metto qui Per incollare Attenzione Che bisogna mettere Le virgolette Così Andiamo un po' a curiosare La stringa Il primo parametro Tutti i parametri sono separati Come vedete Da un punto e virgola E la sorgente dei dati In pratica L'istanza Del SQL Server Express In funzione Sul mio pc Nel caso Aveste la versione full Trovereste qua Una dicitura Diversa Il secondo parametro La touch DB file name È chiaramente Il path Il percorso E il nome Del file Del database Che vogliamo utilizzare Terzo parametro Conferma Che si intende Utilizzare Il sistema di sicurezza Integrato Cioè Se sono riconosciuto Da Windows Sono riconosciuto Anche da SQL Server Quarto parametro Specifica Un tempo di time out Trascorso il quale In attesa Scusatemi Della risposta Del server Il programma Si interrompe Procede Quanto meno Procede 30 secondi 30 secondi E questo Occorre a un parametro Relativo al fatto Che sto utilizzando Il SQL Server Express Ora non sto Entrando nei dettagli Tecnici Anche perché poi È sempre così Basta cambiare Di volta in volta Il limite Soltanto il percorso E il nome Del database Occhio però Provate a far Partire L'applicazione La compilazione Si interromperà Dando questo Messaggio di errore Warning S Sequenza di carattere Di escape Sconosciuta D Stessa cosa Ma che cosa sta succedendo S ancora E così via È il problema Dei backslash Inseriti Nelle stringhe C O C++ Che sono quelle Che introducono Ricordate Lo slash n Per andare a capo Appunto delle sequenze Speciali Chiamate sequenze Di escape Lui pensa Che questo Slash s Sia una sequenza Di escape Come questo Slash d Vi ricordate l'errore Prima era s Poi d In pratica Ogni volta che incontra Uno slash Lui pensa invece Di aver trovato Una sequenza Di escape Che tenta Di interpretare Senza successo Dobbiamo far capire Che questi Non sono Delle sequenze Ma ha il carattere Backslash Stesso Il modo più semplice È raddoppiare Ogni Backslash Volendo Potremmo anche Scriverci una Funzioncina Che automaticamente Aggiunge I Backslash E adesso È arrivato il momento Di aprire Far partire Attivare La connessione Richiamiamo Il metodo Open Per fare una prova Semplicemente La richiudiamo Subito Simmetricamente Con il close Ricordatevi sempre Di chiudere Le connessioni In modo da liberare Le risorse Mantenute aperte Proviamo a far partire Il tutto E se semplicemente Non otteniamo Messaggi di errore Vuol dire Probabilmente Poi vedremo Solo Quando appariranno I dati Di poter Cantare Veramente Vittoria Apparentemente Dicevo Tutto Sembra Funzionale